Sarà in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano e il nuovo treno swing consegnato da Trenitalia alle Marche. Diventano così 24 i nuovi convogli regionali sui binari, 11 jets, 4 pop e 9 swing. Un programma di rinnovo della flotta che sta dando i suoi frutti anche sulle performance. La regione, con 95 treni su 100 che arrivano in orario, è una delle più puntuali d'Italia. Un piano di ammodernamento che tra l'altro si completerà entro il 2025 con l'arrivo di altri 20 nuovi treni, 11 rock, 8 a media capacità, un locomotore diesel, così come previsto dal contratto di servizio sottoscritto tra regione Marche e Trenitalia e che prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 milioni destinati al rinnovo dei treni regionali. Il parco macchine che gestisce la mobilità del nostro territorio si arricchisce di una nuova unità, un'unità importante per dare un servizio ulteriore e soprattutto perché è simbolicamente anche importante a dare un'aspiranza di ripresa e di ritorno alla normalità in questa fase così complicata e difficile. Un nuovo protagonismo che va costruito passando anche e soprattutto per la mobilità, perché la nostra è una regione che vive un po' un isolamento atavico da tanti anni, ma la capacità di immaginare un intermodale intermodalità tra ferrovie, autobus, aeroporti e strade e autostrade può essere sicuramente un'opportunità di rilancio. È solo l'inizio di un piano di investimenti che porterà in regione fino a 25 treni nuovi. Perché l'importanza? Perché stiamo facendo vedere in termini pratici investimenti che sono stati lanciati già da qualche anno. Costruire un treno, portare un treno in servizio è un progetto che ha bisogno di lungo tempo. Questo per me è un messaggio molto importante nel senso che si è investito già con decisioni di anni fa e si è portato a termine l'investimento.